Buongiorno, sono Italo Vignoli, fondatore sia del progetto LibreOffice che dell'Associazione LibreItalia, due organizzazioni senza fini di lucro che hanno l'obiettivo di promuovere il software libero ai formati standard e aperti e di conseguenza la libertà degli utenti rispetto alle scelte quasi sempre vincolanti delle aziende. LibreOffice è la migliore tra le sui di produttività individuale, perché unisce la ricchezza delle funzionalità rispetto degli standard, con l'obiettivo di educare l'utente a quella libertà di scelta a cui ha dovuto rinunciare da troppo tempo, in conseguenza delle strategie commerciali di Microsoft. Strategie basate sullo KIM, ovvero proprio sull'assenza della libertà di scelta e sul mancato rispetto degli standard. LibreOffice è una suite formata da cinque programmi principali. Writer è quello per l'elaborazione dei testi e ha le stesse funzionalità di Word. Calc è l'applicazione per la gestione dei fogli elettronici ed è estremamente simile a Excel. A differenza di quest'ultimo, però, rispetto agli standard riconosciuti a livello internazionale come il calendario gregoriano, con cui Excel è notoriamente e da sempre incompatibile. Impress è il programma per la creazione e la gestione delle presentazioni ed è molto simile a PowerPoint. Draw è un software per il disegno, con cui è possibile realizzare anche documenti di più pagine, con testo e immagini. È fortemente integrato con Impress e con gli altri moduli della suite e aiuta ad arricchire, per esempio, i grafici realizzati con Calc. Base è un'applicazione per la gestione di database, che permette di interagire con i dati in diversi formati standard. Oggi, grazie all'opera di un esperto di database, sta assumendo una sua fisionomia e crescendo in termini di funzionalità. LibreOffice viene utilizzato da diversi antipubblici all'interno della regione Umbria e in particolare dalla provincia di Perugia, dall'azienda sanitaria sempre di Perugia e da alcuni comuni, come quello di Todi. LibreOffice viene utilizzato anche dalla provincia di Cremona, dalla provincia di Macerata e dalla provincia di Bolzano, dove LibreOffice viene utilizzato da anni nell'azienda sanitaria e nel Consorzio dei Comuni e sta per essere adottato anche da tutti gli altri enti pubblici. LibreOffice è la naturale evoluzione del progetto OpenOffice.org, nato nel 2000 su iniziativa di Sanna. Il 28 settembre 2010, la comunità, che stava discutendo da anni dell'opportunità di una fondazione indipendente e capaci di garantire il futuro di OpenOffice.org, ha deciso di dare vita a LibreOffice, sotto l'egida di The Document Foundation. Il progetto è stato accolto con entusiasmo, tanto che più del 95% della comunità è migrata immediatamente a LibreOffice, mentre solo pochi nostalgici del passato sono rimasti prima con Oracle e IBM e poi solo con IBM, quando il progetto è diventato Apache OpenOffice. Questa divisione è particolarmente evidente se analizziamo il numero degli sviluppatori attivi nei tre progetti. Questo grafico visualizza la situazione all'inizio del 2013. Il progetto LibreOffice è riuscito a triplicare e oggi a quadruplicare il numero degli sviluppatori attivi all'epoca di OpenOffice.org, mentre il progetto Apache OpenOffice è riuscito a ridurre il numero dell'80% e oggi addirittura del 90%. Ovviamente, gli sviluppatori volontari non hanno dubbi su quale progetto scegliere, perché privilegiano l'indipendenza rispetto all'asservimento a un unico grande vendor, anche se questo si chiama IBM. Nonostante sia sviluppato da una comunità di sviluppatori, per il 75% volontari e per il 25% pagati da aziende, distribuiti in ogni parte del mondo, LibreOffice è un riferimento per la qualità del codice sorgente, come si evince dal grafico basato sui dati Coverity Scan. LibreOffice è il più grande tra i progetti di software libero a essere sceso sotto la soglia di 0,1 difetti ogni mille righe di codice, pari, per fare un paragone comprensibile a tutti, a un errore di battitura ogni 400 pagine dati lo scritte. Ovviamente, questo non significa che LibreOffice è esente da bug e regressioni, ma che quelli che dipendono dal codice sorgente e non dall'errore umano dello sviluppatore, che è statisticamente simile per tutti i programmi, sono molto più rari. Tra l'altro, il grafico evidenzia anche il fatto che il software open source ha un numero di difetti per mille righe di codice inferiore a quello del software proprietario, contrariamente a quello che affermano aziende come IBM e Microsoft. LibreOffice utilizza lo standard Open Document Format, abbreviato con l'acronimo ODF, come formato nativo dei file. ODF è uno standard ISO riconosciuto da organizzazioni come la NATO, che ha il problema dell'interoperabilità tra più di 100 paesi, da governi come quello inglese e quello olandese, e da regioni italiane come l'Umbria. ODF è l'unico vero standard aperto, visto che Office OpenXML, il formato usato dalle ultime versioni di Microsoft Office, pur essendo riconosciuto da ISO, non viene poi rispettato proprio da Microsoft Office. Open Document Format deriva dal formato usato da openoffice.org, ma è stato concepito da Oasis, un consorzio indipendente di aziende, per essere uno standard, per cui, indipendente dalle applicazioni, utilizza solo componenti standard, e rispetta gli standard come il calendario gregoriano, ma non solo, perché rispetta anche la settimana lavorativa dei musulmani e degli ebrei. Tutto questo lo distingue da Office OpenXML, che è stato concepito come formato proprietario, per cui utilizza componenti proprietari e brevettati da Microsoft, e rispetta solo alcuni standard. Inoltre, Office OpenXML, pur essendo uno standard, è diverso per ogni versione di Microsoft Office, per cui non è, e non sarà mai, un vero standard. Probabilmente è anche per questo motivo che le ultime versioni di Microsoft Office supportano il vero standard, ovvero ODF 1.2. I formati standard per i documenti da ufficio sono nati per rispondere all'esigenza di interoperabilità dettata dall'evoluzione delle tecnologie di comunicazione. Un tempo l'interoperabilità era basata sullo scambio di documenti cartacei, mentre oggi è basata sullo scambio di documenti digitali. Per questo motivo, i documenti stessi devono rispettare un formato standard, usare font libere e multipiattaforma, e utilizzare componenti anch'essi standard, preferibilmente standard aperti come PNG, OGG e H.256. In sintesi, la costruzione dei documenti deve essere completamente neutrale, ovvero non deve usare nessun elemento proprietario oppure limitato da una licenza restrittiva, come nel caso delle font Microsoft. Riassumendo, LibreOffice è il miglior software sotto il profilo dell'interoperabilità, in quanto supporta in modo nativo ODF, che è l'unico formato standard, e gestisce, proprio per garantire l'interoperabilità, con tutti quelli che non si sono ancora adeguati allo standard, tutti i formati proprietari Microsoft. Nel caso di un testo, ODF è l'unico formato a garantire l'interoperabilità, mentre DOCX e DOC sono accettati, anche se sarebbe meglio dire tollerati, per lo scambio di documenti con gli utenti di quello che è diventato, a causa delle scelte commerciali di Microsoft, un software limitato e sostanzialmente inferiore. Al contrario, RTF è assolutamente sconsigliato, in quanto non è uno standard, e non possiede nessuna delle caratteristiche necessarie per essere usato come formato interoperabile. LibreOffice non sarebbe mai riuscito a diventare il migliore in assoluto tra i software per la produttività, senza il contributo della comunità. In Italia, questa è rappresentata dall'Associazione LibreItalia, nata nell'estate del 2014, da un gruppo di sostenitore del software libero, per promuovere l'uso di LibreOffice e di ODF, oltre all'educazione, agli standard e all'interoperabilità. In due mesi, LibreItalia, con oltre 150 soci, è diventata la più grande tra le associazioni di volontariato attive nel mondo del software libero nel nostro paese. I fondatori di LibreItalia hanno eletto Sonia Monteggiovano nel ruolo di presidente, Marina Latini in quello di vicepresidente e chief technical officer, Giordano Alborghetti in quello di tesoriere, Andrea Castellani, Alfredo Parisi, Gabriele Ponzo e il sottoscritto in quello di consiglieri. Come riconoscimento per il mio ruolo nel progetto LibreOffice, io sono stato nominato presidente onorario, un ruolo che ho accettato più che volentieri e che mi riempie di gioia. LibreItalia è nata dall'esperienza delle migrazioni a LibreOffice nella pubblica amministrazione e ha l'obiettivo di diventare un punto di aggregazione per tutti i progetti di migrazione a LibreOffice in Italia. Per questo motivo, oltre a raccogliere le best practice, organizzerà seminari e corsi di formazione su LibreOffice e sui formati standard e parteciperà a progetti di tipo educativo. LibreItalia è facile da trovare e da raggiungere grazie a una presenza diffusa in rete. Oltre all'omonimo sito all'indirizzo email, è presente su Twitter con un canale, su Google Plus con una community e su Facebook con una pagina. per coloro che volessero aderire e come soci, sul sito ci sono anche il modulo di adesione, le linee guida e lo statuto. E con questo vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento al 29 novembre per la prima conferenza di LibreItalia. Grazie a tutti.